pioli ma che cazzo di partita hai preparato dai dai su ridicoli c'è un approccio così ridicolo non lo vedevo da un po sinceramente forse da da lazio milan non lo so da quel 4 a 0 contro il sassuolo siamo tornati a quel tipo di squadra lì da quella squadra di gennaio pioli sbaglia completamente approccio perché quella squadra lì alta che va aggredire alto in quel modo in maniera disordinata è una cosa è una cosa preparata da pioli ragazzi la colpa è sua è la colpa anche dei calciatori che non sono concentrati calabria lì non doveva stare su zecco nel primo gol secondo gol tonali perde completamente michi tariana se lo dimentica fanno quel gol così la qualificazione ce la siamo giocata così proprio l'avete presa e buttata nel cesso ancora una volta contro l'inter ci mettiamo a pecora perché questa la verità ci siamo messi lì belli e ci siamo fatti infilare in quel posto perché è così che è andata davvero ridicoli 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 davvero cioè io potevo aspettarmi un po di tensione un po di agitazione così no cioè così no posso capire la semifinale di champions non è facile a giocare ma così avete giocato veramente male 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 tutti quanti davvero deluso delusione totale al ritorno ci vuole il miracolo divino ci vuole ci vuole proprio l'ascesa dei santi di tutti i santi per aiutarci ciao ragazzi buonanotte grazie